Musica Auguro alla Nuova Conf Commercio di fare un ottimo lavoro pieno di passione e competenza per la nostra città. Molto apprezzato le parole con cui è iniziato questo convegno su un tema che ci impegna ogni giorno, lo sviluppo del sud. Sviluppo del sud significa valorizzare le nostre terre, creare lavoro, creare un'economia pulita, un rapporto corretto tra pubblico e privato, garantire servizi e infrastrutture migliori ma anche sottolineare i risultati straordinari che abbiamo raggiunto in questi anni in condizioni davvero certe volte proibitive. Pensiamo al fatto che siamo primi per crescita culturale turistica, terzi per start-up giovanili, primo set cinematografico all'aperto d'Italia. Insomma Napoli sta diventando sempre di più una potenza e con questo spirito di squadra, pur tra le differenze, io credo che Napoli rappresenterà sempre di più un punto di riferimento per il nostro paese.